Il federalismo municipale lede l'autonomia dei comuni, secondo il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni, Sergio Chiamparino, perché dal testo del decreto di attuazione non emergono quelle risposte in materia di autonomia, più volte chiesta da Lanci. Secondo il sindaco di Torino, le risposte in materia di autonomia potevano consentire di recuperare, anche se parzialmente, i tagli alle risorse prodotti nel 2010. Chiamparino ha per questa ragione proposto un rinvio prima dell'approvazione alla Commissione bicamerale per il federalismo. Richiesta respedita al mittente dal ministro Calderoli, per cui non esistono le condizioni per tornare in conferenza unificata, perché, ha detto, non è previsto dalla legge 42 che norma proprio il federalismo. Siamo stupiti dal comportamento del Lanci, ha detto il presidente della Commissione bicamerale, Enrico Laloggia. Avevamo accolto la loro richiesta, poi c'è stato il ripensamento e quindi Calderoli si è riservato una verifica sui conti con il Ministero dell'Economia. La loggia si è detto comunque ottimista. Con i comuni, ha aggiunto, non c'è una situazione di contrasto. Si può trovare l'accordo, aggiungendo anche che della richiesta di proroga inoltrata dal Lanci se ne parlerà domani in Consiglio dei Ministri.